Welcome back, welcome back, welcome back. Siamo tornati, Cool Kids Stories, qui con Viola e Henry, c'è il vostro Andrea. Ciao a tutti. Siamo qui con la seconda puntata di un bellissimo progetto che ci sta molto a cuore, quello della nostra collaborazione con B per Banca. E in particolare oggi portiamo B per Banca dentro al nostro format, Henry, e per la prima volta nella storia di Cool Kids Stories abbiamo un ospite. Ah sì? È vero! Che dobbiamo ancora capire se è cool o no. Però... La valutiamo durante la frittà. Speriamo, speriamo, ragazzi. È anche un po' provino oggi. Sì, 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 cavolo, non ci avevo pensato. È una first. Prima ospite, vabbè, che è un onore incredibile. Viola. Viola. È il suo nome, effettivamente. Effettivamente quello è. E Cool Kids Stories, facciamo un breve recap di cos'è Cool Kids Stories, il format che normalmente conduciamo io e te, Henry. Senza Viola. Senza Viola, appunto, che glielo faremo pesare tutta la puntata. E di cosa tratta Cool Kids Stories, Henry? Allora, tratta di storie, come si può capire dall'ultima delle tre parole, stories, di persone che sono state game changers nel loro ambito lavorativo, sportivo, insomma in quello in cui si sono impegnati. Quindi che hanno delle caratteristiche che li hanno portati a essere definiti da noi dei Cool Kids, cosa che viventi e non, questa è una cosa assolutamente da specificare, però qualcuno che ci ha colpito particolarmente per l'approccio, per la dedizione, per l'impegno e anche per il successo che ha avuto. Solitamente diciamo che i Cool Kids non sono, diciamo, stati ancora santificati. Sono delle persone... Li santifichiamo noi in questo programma. Sono dei mortali che quindi hanno sicuramente degli aspetti, anche delle ombre all'interno della loro vita e che però fa parte poi dell'umanità delle persone. Quindi abbiamo parlato di diverse persone, da Walt Disney passando per Fosbury che ha rivoluzionato col salto. Tutti saltavano in avanti, ha iniziato a saltare indietro e è cambiato il mondo. E oggi appunto parleremo di quattro donne, di quattro imprenditrici che nello specifico della loro professione hanno dato... hanno cambiato qualcosa. Sono state, come dicevi tu, game changers. Infatti oltre alla presenza di Viola, che è una first, diciamo, all'interno di Cool Kids Stories, anche oggi facciamo una cosa che non avevamo mai fatto. Noi normalmente Cool Kids Stories, lo chiamiamo Cool Kids Stories come tutte le storie che raccontiamo, ma in ogni puntata ci addentriamo nella vita di una sola persona. Oggi invece, in virtù proprio della collaborazione con Biperbanca e del progetto Donne al Quadrato promosso da Biperbanca con Global Thinking Foundation, andremo appunto ad analizzare quattro storie di quattro donne. Quindi cercando di dare un overview su quelle che sono state quattro storie che ci hanno ispirato, che ci hanno fatto dire cavoli queste sono delle Cool Kids e andremo a raccontare un po' il perché secondo noi le possiamo definire tali. Assolutamente. E la cosa molto interessante è che sono quattro storie molto contemporanee e quindi anche molto di ispirazione, insomma, in cui ci si può ritrovare e ritrovare, diciamo, non per fortuna in tutte le cose che hanno vissuto, perché le hanno passate alcune di cotte di crude, però in tante sicuramente. E direi di partire con queste quattro donne dicendo che appunto abbiamo voluto sottolineare, come ha detto Harry, storie contemporanee perché possano essere uno stimolo a tutte le donne appunto che entrano in contatto con il progetto Donne al Quadrato e che vogliono quindi avventurarsi all'interno del mondo dell'educazione finanziaria e ricevere consigli, ispirazione e suggerimenti su come muoversi in questo mondo. Queste quattro donne sono un esempio perfetto di come il genere femminile sappia navigare tranquillamente in queste acque e che quindi ci faceva piacere dare il giusto lustro alle storie di tutte e non di concentrarci su un unico esempio mainstream. Infatti diciamo che se ci fossimo trovati a parlare, dico per dire, di Oprah Winfrey sarebbe stato sicuramente una grande puntata di Cool Kid ma probabilmente non avrebbe raggiunto allo stesso modo l'obiettivo, quello di far vedere come anche con percorsi diversi queste quattro donne sono arrivate al titolo Cool Kid. Sì perché spesso hai la sensazione sui nomi molto esposti che è come se fossero stati presi e messi lì. Non hai tanto la sensazione che ci sia stato un percorso perché magari noi siamo nati cresciuti con Oprah che era sempre lì. E quindi anche questo è appunto un aspetto interessante della puntata di oggi che ascolterete. Che ascolterete. Allora partiamo con la prima storia, mi incarico volentieri di introdurre quella che è una delle mie ispirazioni quando penso alle donne ma in generale alle persone che hanno impattato il mondo del business negli ultimi anni. Io sono un grande fan, come ci ricordiamo dalla prima puntata di Cool Kid Stories su Mark Zuckerberg, delle personalità della Silicon Valley. Lei è sicuramente la regina della Silicon Valley. Perché? Perché Whitney Wolfeard, questo è il suo nome, è la fondatrice di Bumble. La prima dating app in cui sono le donne a prendere un po' il controllo del paradigma. Viola è già grandiosa così. È già grandiosa, ti ha già convinta. E la sua storia è molto interessante perché è una storia di rivincita, è una storia di rivalsa, è una storia di una persona che ha avuto una grande lungimiranza e però si è dovuta assorbire un bel po' di problematiche per arrivare a far accettare la sua visione al mondo. Infatti lei, giovane da sempre con uno spirito imprenditoriale, tra l'altro lei è dell'89, cioè cinque anni più di noi, nel senso io sento l'ansia nel raccontare la sua storia perché insomma questa ha già costruito abbastanza un impero. Lei parte molto giovane con delle prime venture diciamo di imprenditoria, sempre molto improntate anche ad un risvolto benefico. Quindi ci aveva sempre in testa questa cosa di fare business, fare soldi, però non necessariamente a discapito degli altri. Anzi, se poteva trovare un progetto che l'arricchiva e nel frattempo faceva del bene. Il primo era delle borse... Bravissimo, aveva delle borse in cui i proventi poi andavano indirizzati a aiutare diciamo le zone colpite da trivellaggio petrolifero e successivamente al disastro della Deepwater Horizon, quella che hanno fatto anche quel film che sembra celebrare il fatto che sia successa una tragedia naturale. Il Golfo del Messico. Esatto, e quindi diciamo il profit ma con un risvolto corporate social responsibility sempre molto presente, molto importante. Detto questo, cosa fa lei? Lei viene introdotta alla Silicon Valley con il grande esordio della più famosa dating app del mondo a cui noi dobbiamo anche un fantastico format Tinder Song, ovvero Tinder. Tinder, credo che lo conosciamo tutti a questo punto della storia, è sicuramente sinonimo di dating app al giorno d'oggi. E Whitney era nel team fondante con quello che era il suo ex partner di affari e di vita, Justin Mirin. Loro fondano Tinder e qua c'è la prima piccola storia che vorrei raccontare che è geniale perché lei essendo vicepresidente del marketing si è fatta venire in mente a mio parere la campagna più creativa della storia della Silicon Valley, ovvero cosa ha fatto? Ha detto c'è bisogno di promuovere Tinder. Tinder tendenzialmente serve a persone single che vogliono trovare altri single. Dov'è che possiamo trovare l'audience perfetto per questa piattaforma? Nelle università americane che sono tutti diciamo abbastanza allupati e quindi sono pronti e ricettivi a questo tipo di proposta e il modo in cui lei ha fatto esplodere Tinder ha organizzato delle feste pazzesche in 4-5 università top, Stanford, Columbia eccetera e praticamente per accedere a queste feste gli studenti dovevano registrarsi a Tinder e poi lasciare il telefono all'ingresso così che tutte le persone che avessero incontrato durante la serata, con cui avessero avuto un feeling avrebbero dovuto ritrovarle su Tinder il giorno dopo e quindi avrebbero dovuto iniziare per forza a utilizzare l'applicazione dal giorno successivo. Questa è stata una delle campagne di... Per non scambiarsi i telefoni, il numero che hai, ok, ok. Non aveva un altro modo. Non aveva un altro modo. O a meno ti potevi scrivere una cosa sulla mano, però sai, probabilmente una festa erano anche un po' alterati dall'alcol e quant'altro e quindi lei ha messo il bisogno di Tinder nella testa di questi studenti. Poi la storia di successo, insomma, è quella che ne è seguita. Però era una campagna virale che in un periodo in cui era difficile immaginarsela mi aveva colpito molto. Cosa succede poi? Ve la faccio un po' più breve. Con Tinder lei non si trova. Praticamente essendo una persona molto attenta alle esigenze delle donne, come raccontavamo sin dall'inizio delle sue avventure imprenditoriali, si rende conto che Tinder promuove una cultura un po' maschilista che a volte sfocia anche in sexual harassment, in molestie sessuali online per le donne che popolavano la piattaforma e cerca di prima risolvere internamente poi di prendere le distanze dal brand. Questo scaturisce una battaglia legale perché nel frattempo lei si è pure lasciata con il co-founder di Tinder che le vuole strippare il titolo di co-founder e non praticamente riconoscerle il ruolo nella creazione dell'azienda. Sì, con anche una vessazione, cioè con un rapporto anche molto pesante in termini proprio emotivi e di... E lei aveva 24 anni. Lei aveva 24 anni, cioè di hating online, bravo. Nel senso lui aveva anche fomentato tanto hating online. Lei dice io a 24 anni ho fondato uno dei casi più di successo della Silicon Valley e internet mi odia, cioè è il controsenso... Paradosso. È il paradosso totale. Lei impugna le vie legali con Tinder, dopo una lunga causa riesce anche a vincere, ma decide di allontanarsi completamente dalla compagnia proprio per quelle problematiche che le stavano tanto a cuore e che vedevano le donne un po' troppo oggettivizzate all'interno del mondo Tinder. Cosa fa? Trova la risposta. Una piattaforma di dating dove siano le donne a fare la prima mossa. Lei dice signore fate voi la prima mossa, che è un bellissimo motto, no? Ladies, it's your turn. E questo obiettivamente va a colpire un bisogno che probabilmente tanti, diciamo, founder di Dating Up non avevano capito, no? Forse erano rimasti un po' alla... E la cosa molto interessante è che lei è praticamente uno studio quasi empirico, nel senso che lei da una sua esigenza capisce che tante donne sono in quella condizione di essere un bel po' soffocate nel suo caso e quindi di metterle nella condizione di poter almeno avere, diciamo, il primo passo di vantaggio, se vogliamo dire. No, questo è molto interessante perché, come sottolineavi tu, a 24 anni riuscire a rivoluzionare così, partendo da una sua esigenza personale, ma riuscire a tradurla poi in un fenomeno mondiale che va a parlare al cuore di milioni di donne, non è assolutamente banale. Infatti si vedeva dagli studi da cui lei è partita che solo il 28% delle donne avevano provato una Dating Up durante la loro vita, mentre il numero degli uomini era quasi il doppio. Quindi lei diceva che questa stessa mancanza di voglia di affidarsi al Dating Up probabilmente sottolinea e evidenzia un malessere da parte delle donne che non si sentono sicure. Quindi Bumble vuole essere uno spazio sicuro per le persone. Acceleriamo attraverso poi gli anni dalla fondazione di Bumble che dal 2014 continua a crescere, nel 2021-22 registra per la prima volta 100 milioni di user in tutto il mondo e lei diventa nel frattempo la self-made billionaire più giovane della storia secondo Forbes. Infatti portando la compagnia, quotandola su Wall Street nel 2021 riesce nel giro di poche ore a portare il prezzo delle azioni da 43 dollari a 82. Quindi insomma un successo planetario che vede il suo patrimonio assestarsi su un miliardo e mezzo. Per quello ti dicevo, c'è cinque anni più di noi, dobbiamo un attimo svegliarci qua perché siamo belli indietro. Questa è la prima storia della prima donna che volevamo introdurre, appunto Whitney Wolf-Eard, la chiameremo Whitney da qui in poi per non impazzire con la pronuncia, e la seconda a mio parere è altrettanto interessante. Andiamo su Bosoma? Andiamo su Bosoma. Bosoma è stata affidata a me che con grande orgoglio ieri l'ho studiata perché, ammetto, non la conoscevo in realtà, o meglio poi la faccia mi è risuonata perché avevo visto dei TED Talk suoi, però poco. Lei nasce nel 1977 negli Stati Uniti, in realtà in gran parte della sua infanzia la passa in Ghana, infatti sia sua madre che suo padre sono del Ghana. Tra l'altro suo padre è membro del Parlamento. Non sapevo. Membro del Parlamento, tanto che quando viene rovesciato il governo, lei aveva cinque anni, sono costretti a partire, a fuggire, infatti vanno inizialmente a Washington DC per poi ritornare in realtà in Ghana e trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, in Colorado, decisamente diverso come realtà da Washington DC per chiarirsi, quando lei, anche dal Ghana ovviamente, ha 12 anni. Quindi gran parte della sua infanzia e della sua adolescenza lei l'ha passato in Colorado, dove in realtà ha iniziato veramente la sua carriera, ma sin da adolescente, rendendosi conto di numerose cose che non andavano in Colorado e soprattutto di come lei si dovesse approcciare in una realtà, quale è il Colorado. Poi hai sottolineato una cosa bellissima, Viola, cioè secondo me la cosa che vedremo di tutte queste donne è che si sono accorte che qualcosa non andava. Capito? È una cosa, cioè lei si è resa conto e non soltanto se ne è resa conto, ha subito agito di conseguenza. Capito? Ha preso parte nel pratico ad una rivoluzione personale nella sua vita e poi di carriera, infatti poi questo cambiamento, questa sua realizzazione lei l'ha effettivamente praticata nella sua carriera. Ha avuto una carriera super variegata, ha iniziato nel 2000 con l'agenzia pubblicitaria di Spike Lee, Spike DDB si chiama, e lei ad un certo punto ha avuto a che fare col brand di Pepsi, quindi fate conto, un brand multinazionale enorme, ok, globale, quale Pepsi, e lei aveva proposto come testimonial di Pepsi Beyoncé. Beyoncé, chiara cool kid, non devo neanche dirlo, però magari nel nostro tenersi non mainstream, purtroppo forse non dobbiamo parlare di Beyoncé, ma lei propose Beyoncé quando aveva appena lasciato le Destiny's Child. Destiny's Child ovviamente pop band iconiche, ma Beyoncé non era ancora Queen Bee, ok, che conosciamo oggi. Aveva lasciato Destiny's Child, e a quei tempi lasciare una band pop quale le Destiny's Child non ti garantiva sicuramente una strada sicura. Non è detto che da solista diventare... Capito? Non era già lei quella che conosciamo adesso, e Bozoma è riuscita a riconoscere in Beyoncé una testimonial perfetta per Pepsi, tale è stata, tanto che poi Bozoma viene assunta da Pepsi, come spesso accade per chi lavora in agenzia in consulenza, spesso inizia a lavorare per il cliente, e quindi è iniziata a lavorare con Pepsi, portando a Pepsi numerosi successi, e portando soprattutto una sua cultura pop musicale che lei aveva acquisito ai tempi in Colorado, quando per farsi riconoscere, per cercare di assimilarsi agli altri, trovare una linea di comunicazione con gli altri, lei parlava di musica, parlava di arte, parlava di moda, di qualsiasi cosa le interessasse nella cultura pop, lei parlava di quello e riusciva a comunicare con gli altri spesso e volentieri tramite quello, pensavo che avesse proposto Maradona come testimonia, poteva anche proporre Maradona, una campagna incredibile, quindi niente, tant'è che lei tra l'altro ha studiato anche lettere, e dovete sapere che spesso per le famiglie come la sua, la strada era quella di medico, lei infatti ha deciso di prendersi un anno sabbatico, infatti mi sono gasata perché anche io ho preso un anno sabbatico, ho detto cazzo Bozzoma sei una grande, ho detto come te, e lei si è presa un anno sabbatico, ha deciso di non studiare medicina, quindi ha fatto il primo passo veramente per decidere il suo destino, io col cavolo che studio medicina, vado a studiare lettere e cultura pop africana, e basta e da lì è diventata pazzesca, ha lavorato per Pepsi, ha lavorato anche per Apple ad una certa, e adesso attualmente è CMO di Netflix, che ricordiamo conta qualcosa come 183 milioni di utenti paganti in 190 page, è una roba, ovviamente è Netflix, ok? Non dobbiamo presentarvi in Netflix, senza contare quelli che poi vivono sulle spalle di chi ha l'abbonamento, i parassiti di Netflix, i parassiti della società. Questo quindi vi ho rassunto un po' la storia di Bozzoma, ma è grandiosa, è grandiosa, poi lei ha lavorato anche ad un certo punto per Ashley Stewart, perché è passata da Pepsi come non vicepresidente ma signor marketing, e poi è passata in Ashley Stewart, che è una realtà decisamente più piccola, ma come vicepresidente. Quindi ha avuto, diciamo, questo cambiamento di ruoli abbastanza verticale, orizzontale, un po' obliqui, perché è passata in una realtà più piccola con un ruolo più importante, per poi ritornare anche in Pepsi come head-off, in un ruolo ovviamente minore, ma in una società molto più grande come Pepsi. È passata anche da Uber? È passata anche da Uber, e quando è passata da Uber, Uber ricordiamoci che aveva avuto un successo vertiginoso ad un certo punto, nel 2014, per poi avere questo tracollo incredibile, perché era stato inserito in un dramma di moleste sessuali, sul management, cose varie, e lei si è presa in questo ruolo difficile di far parte di Uber e di completamente revisionare il brand e la società, la cultura di Uber, in quanto lei è sempre portatrice di ovviamente messaggi di inclusione, di parità di genere, di parità di cultura, qualsiasi cosa, lei si è sempre stata abbastanza attivista da questo punto di vista, e lei è riuscita a prendere Uber, c'è stata in realtà soltanto un anno, ma è stata in grado di portare la sua grinta all'interno di un brand che in realtà stava abbastanza crollando, perché quella grande ombra era stata abbastanza definitiva, e lei è stata in grado di portarla avanti. La terza storia è una storia invece di una ragazza cinese, figlia di immigrati, nata in Australia, che si chiama Jane Lou, ed è una ragazza super energica. Super gente ha casato. Sì, cavolo, cioè veramente super energica, sorridente, a me ha fatto venire molto, mentre una persona di quelle che ti motivano, che fanno appunto quei discorsi motivazionali, super positiva, e praticamente questa Jane fa un percorso, viene da una famiglia abbastanza umile, e fa un percorso di studi un po' da prima della classe, arrivando appunto dopo il diploma a Ernst & Young, facendo un lavoro che da tanti poteva essere considerato molto bello, un traguardo, un punto d'arrivo, un po' tipo la McKinsey, per un bocconiano, ho sentito parlare tutta la vita di McKinsey, McKinsey sembrava fosse l'unica cosa possibile. Lei appunto fa questo lavoro, cioè inizia a lavorare appunto in finanza, e però fin da subito sente che lei ha un po' un altro fuoco dentro, vuole fare qualcosa di suo, e si sente un po' in trappola. Lascia il lavoro e inizia un piccolo business con un amico, che però in poco tempo va male. In realtà non aveva mai detto ai suoi genitori che aveva lasciato il lavoro, perché appunto i genitori vivevano, cioè mettevano su di lei tante delle loro speranze anche di riscatto, e quindi non voleva dare loro questa delusione, e quindi per un po' di tempo, senza un lavoro, senza averlo detto ai genitori, si svegliava tutte le mattine, si metteva vestita come se dovesse andare a lavorare in ufficio, usciva di casa, e andava in realtà in biblioteca a preparare il business plan per il successivo appunto business. E la cosa incredibile, cioè il suo aspetto veramente visionario è quello principalmente dell'utilizzo dei social media, perché lei nel 2010-2013, in un periodo in cui Facebook era super popolato, e si riuscivano a fare dei numeri organici veramente incredibili rispetto ad oggi, aveva capito che quello era il posto giusto per poter promuovere questo inizio di idea di business, che era un po' una sorta di dropshipping, nel senso che lei inizialmente prendeva in conto vendita dei capi di altri brand, e semplicemente aveva un marketplace in cui li metteva. In quel periodo l'abbigliamento vedeva veramente tanto male l'online, si pensava solo che l'unica possibilità fosse appunto il fisico, e però lei veniva da un'esperienza di un negozio appunto fisico che era stato fallimentare, quindi lei ha detto devo investire il futuro, le frasi, il futuro è l'e-commerce, però se lo dici durante la pandemia nel 2020, dici vabbè effettivamente, nel 2010 invece lei è stata in questo senso molto visionaria, e quindi ha trovato il posto dove vendere e il modo per far arrivare i suoi prodotti al maggior numero di persone possibile, appunto utilizzando Facebook senza in realtà sponsorizzati in un primo momento, ma semplicemente organicamente, perché in quel periodo Facebook, evidentemente per dover, come adesso i reel, due anni fai i reel su Instagram, fai i reel perché Instagram ti spinge, era un po' quella roba lì, e per farvi capire quanto è stata forte i social media nel 2016 su IG aveva un milione di follower, che comunque era nato nel 2013 Instagram, esatto, quindi l'aveva capito molto molto bene, e mette in piedi, quindi in un primo momento utilizza una vetrina, un e-commerce con dei prodotti di altri, perché chiaramente produrre abbigliamento è costoso. In un secondo momento invece capisce, cioè le cose vanno bene, perché chiaramente ha la storia classica, molto anche lei da Silicon Valley, nonostante sia in Australia, parte dal magazzino, cioè dal garage dei suoi genitori, facendo tutto da sola, e lavorando tantissimo, come una matta, e anche questa farsa che teneva in piedi per i suoi genitori comunque deve essere stata faticosa, cioè ha flexato tanto, anche perché poi dopo un anno riesce a mettere assieme un po' di soldi e compra la macchina al padre, cioè tipo Salvatore Renzulla che guadagnava più di suo padre con gli spazi pubblicitari, una storia un po' di quel tipo. E quindi in poco tempo comunque la società va bene e sostanzialmente inizia a sviluppare delle linee di proprietà, quindi appunto dei brand all'interno di questa società, che non abbiamo ancora detto come si chiama, la lascio dire a Viola perché è bravissima. No, dita tu che prima l'hai detto molto bene. ShowPo, veniva da ShowPony, poi è diventato ShowPo, ed è un po' un ASOS australiano e asiatico come per darvi un riferimento di quello che mi sono, di quello che, insomma, di quello che è ShowPo, e vende in 120 paesi ed è appunto una storia di imprenditoria totalmente di successo. Hanno aperto anche un e-commerce e una sede in California. Vanno matti per il Coachella. Ho visto proprio oggi, guardavo l'Instagram, che hanno fatto tutta un'attività al Coachella, perché a lei piace tanto il Coachella. Le piace proprio tanto. Ho visto anche che lei 5-6 anni fa vloggava tantissimo e aveva fatto il vlog con le sue amiche in cui andava al Coachella. Rivalza, lì la rivalza più grande. Totalmente rivalza e poi fa dei prodotti anche molto, cioè in tempi non sospetti, hanno investito molto nello sviluppare una proposta che per ogni capo avesse la versione, diciamo, curvi e la versione non curvi. E lei quindi fin dall'inizio ha investito sull'e-commerce, sul marketing digitale e appunto nel capire che bisognava allargare la proposta perché c'erano delle esigenze del mercato che erano diverse. E devo dire che sono comunque abbastanza del settore io. Infatti vedo affinità tra te già in lungo. No, ma molta, molta affinità. Infatti l'ho scritto anche in DM. Trovo affinità. No, e comunque la proposta dello stesso capo, nella stessa versione, in questi due volumi, nonostante sia il 2023, mi ha trovato comunque una cosa che ho detto… Beh, non è ancora scontata, quindi giusto così. Infatti, infatti. Quindi J.Loo è questa… J.Loo… J.Loo invece è un'altra persona ancora. Anche lei è cool kid. Anche lei è cool kid, discusa. J.Loo poi ne andremo a parlare, diciamo, degli aspetti per cui è una cool kid, però sicuramente è molto carismatica, ha un'energia incredibile e una visione anche molto ben definita. Oltre ad essere ancora molto giovane, quindi possiamo ancora avere tanto da J.Loo. Tanto da J.Loo. Al Coacella, sicuramente. Sicuramente. La settimana prossima possiamo tornare ad avere tanto da J.Loo adesso. Infatti l'ho scritto una mail e mi è arrivato out of office at Coacella. At Coacella. At Coacella. I'm vlogging at Coacella. Please call me later. E passiamo all'ultima delle quattro donne, la prima italiana, perché era importante introdurre anche un nome italiano nel mix per far capire che le donne di successo in Italia non si chiamano solo Chiara Ferragni, che per carità cool kid anche lei nuovamente, però appunto ce ne sono tante altre e nello specifico parliamo di Claudia Segre. Claudia Segre che si lega benissimo al motivo per cui siamo qui oggi, infatti con Global Thinking Foundation è promotrice e fondatrice del progetto Donne al Quadrato che diciamo delinea il tema di questa puntata e ha una storia molto interessante anche qui con un nord molto chiaro di andare a risolvere e attaccare dei problemi che lei ha diciamo percepito durante la sua carriera. Carriera che a differenza di quella raccontata da noi finora si concentra nel mondo della finanza, lei infatti studia scienze politiche però già con un focus sull'economia dei mercati finanziari molto importante, quindi una mente economica già formata dalla giovane età e da lì segue un percorso di formazione che si basa molto sugli studi di questo analista di nome Mark Mobius che credeva molto nella parità di opportunità all'interno dei mercati finanziari. Lei diciamo inizialmente fonda tutto il suo progresso su questa strada e si concentra tanto sulla finanza sostenibile, un argomento che tra l'altro abbiamo toccato nella prima puntata qui con gli ospiti di Biper e che va a sottolineare di nuovo un concetto importante che abbiamo sfiorato nelle storie precedenti, ovvero non è che perché devo diventare grande io ci devono perdere tutti gli altri, posso tracciare una linea, un percorso in cui io faccio del bene a me stessa ma le mie azioni e il mio successo portano del bene e del successo ad altre persone. Da qui iniziano una serie anche di importanti ruoli all'interno di numerosissime banche note nel panorama internazionale che poi la portano a ricoprire dei ruoli dirigenziali che vado ad elencare, siede nel board di Assofintech e del forum della finanza sostenibile, quindi anche qui vediamo tecnologia e sostenibilità come due binari su cui portare avanti una visione di finanza più giusta, più pura, più inclusiva. Il suo motto è Ad Maiora, quindi anche io mi ci ritrovo sempre molto verso cose più grandi. È latino. È latino. Bravissimo, bravo. Perché può sembrare spagnolo, Ad Maiora. È un attimo, è proprio lì. È un attimo, però invece è latino, magari anche in spagnolo si dice, e appunto lei diciamo reputa che sia importante avere memoria di quello che c'è prima per andare a scrivere meglio quello che arriva dopo. In particolare i suoi obiettivi sono quelli legati all'aiutare e amplificare l'educazione finanziaria sia per le persone in generale, ma poi per le donne nello specifico. Cioè l'emancipazione che passa attraverso la preparazione finanziaria, che è comunque quasi come se dovesse essere un secondo argomento, però in realtà è effettivamente... Forse la pietra miliare della cosa, no? Nel senso Viola, tu adesso da donna senza educazione finanziaria... No, 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 esatto, esattamente questo. Secondo me funziona molto anche rispetto a quello che stavamo dicendo adesso, che sia stata una donna farlo per le donne, no? Nel senso anche lì traccio un po' sulla base della mia esperienza le linee guida per quelle che verranno dopo di me. E io credo che lei, come poi è stata riconosciuta anche da Forbes, che l'ha insterita nelle 100 donne più influenti d'Italia dal 2019 a questa parte, credo che sia stata brava a usare la sua storia, e la sua esperienza come modello di ispirazione. Questo l'ha portata poi a essere presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, che ricordiamo essere promotrice del progetto Donna al Quadrato, e di attivare una serie di progetti appunto contro la discriminazione finanziaria, contro la violenza economica, che sono purtroppo delle realtà che esistono anche al giorno d'oggi, sia in Italia che in Francia, e con una portata appunto che va ben oltre i confini del nostro paese. La sua convinzione è che tra l'altro la tecnologia abbia un ruolo centralissimo all'interno dell'abbattere queste distanze, infatti poi come vedremo anche in chiusura, il progetto di Donna al Quadrato prevede dei corsi online che vadano a colmare il gap che ovviamente lei ha toccato con mano e che sappiamo tutti essere una realtà dei giorni nostri. Quindi una guerra al gender gap mi ha fatto scoprire la parola womanomics, che onestamente non conoscevo ed è fighissima, perché a me quando unisci due parole, tantissimo, come FIGITAL, lo sai che a me piace FIGITAL, perché unisci due parole che hanno senso e la cosa che ne esce fuori ha senso, quindi esperta di womanomics e appunto impegnata nel cercare di combattere questa battaglia di promozione di un'uguaglianza di genere all'interno della finanza. E direi che insomma questo progetto di cui abbiamo la fortuna di parlare oggi è sicuramente un passo importante in questa direzione, infatti è dal 2016 che il progetto è attivo, abbiamo diverse volontarie certificate che sono diciamo le istruttrici che Claudia ha messo a bordo per assicurarsi di avere della qualità nell'insegnamento e delle persone fidate con cui collaborare per cercare di creare questo spazio sicuro nel mondo dell'economia per tutte le donne del mondo. Questa è un po' l'introduzione delle quattro storie che appunto poi vi invitiamo ad approfondire separatamente perché come abbiamo visto ognuno diciamo quella che ha introdotto ci si è appassionato particolarmente e io se non fossi fidanzato farei pervenire una proposta di matrimonio a Whitney Walford domani. Ah sì eh? Sì assolutamente. Faccio per te. Ma l'hai messo il super like? L'ho messo il super like? Quello secondo me lei è contrario al super like. Il super like è molto maschio. Eh se ne mettono pochi fai il super like. È veramente, è veramente, è vero, è vero un po'. Suona un po' come catcall in super like. È bello aggressivo. È diventata una puntata contro Tinder adesso. E andando un po' invece a concentrarci sul legame appunto che queste donne hanno avuto nella loro vita con i temi del progetto e di conseguenza del perché abbiamo pensato che possono essere definite cool kid darei un cambio di tavolo e farei partire Bozoma, Viola. Vado subito. Penso che già parlando della loro carriera di queste quattro donne già hai detto la motivazione intrinseca al perché sei cool kid. Devo dire però che Bozoma, io ho guardato un'intervista dove lei si definisce con tre aggettivi che sono gli ultimi tre aggettivi con cui io mi definirei. Che sono appariscente, rumorosa, sicura di sé e aggiunge un quarto, persino presuntuosa. Giustifica perché, come lei stessa dice, si è guadagnata il diritto di poterlo essere. Lei così. Parte l'intervista così Bozoma. Già per me hai vinto dieci su dieci e va bene uguale. Sbattendo la Pepsi sul tavolo. Così proprio. Cioè, fatto tutto. E lei in realtà, proprio come raccontavo prima, già dalla sua infanzia si è resa conto del fatto che dice anche, e io continuo a proprio dire le sue parole in modo tale da non potevo essere meno alta, era alta 1,80 quando aveva 14 anni, meno nera e meno diversa, anche un po' meno donna, decise di andare all in e di diventare totalmente la persona che è. Bellissimo. Capito? Lei si rende conto che in un contesto come il Colorado, che non permetteva in alcun modo di uscire da determinati schemi prefissati ovviamente dalla società, che però non stiamo parlando, capito, di 200.000 anni fa, stiamo parlando di 40 anni fa, e stiamo parlando anche di adesso, perché ridendoci scherzando, stiamo parlando anche di adesso, lei si è resa conto che tanto più si sforzava ad omologarsi agli altri, meno dava a se stessa. e quindi lei si è resa conto a 14 anni, capito, per farvi capire la lungimiranza, di riuscire ad attraversare i corridoi della scuola senza badare agli altri che guardavano questa donnona alta, bella, ma, capito, tanta roba e tanta diversa dagli altri, perché ovviamente in un contesto come l'adolescenza, in un contesto come il Colorado, essere diversa dagli altri sono le prerogative per non essere inclusi, ok? E lei si è resa conto che questo non doveva essere un suo limite, ma un modo da portare avanti, non soltanto nella sua vita personale, ma anche nella sua carriera. Un livello di consapevolezza a 14 anni? Incredibile, infatti ho detto, cioè, non ce l'ho io adesso, che vabbè, non è che sono tanto vecchia, ho 20 anni, però, capito, lei l'ha scoperta a 14 anni in un contesto ancora più difficile in cui includersi, e forse era proprio lì nella difficoltà, e l'abbiamo notato anche in tutte queste quattro altre, tutte queste quattro donne che sta proprio nella difficoltà e nella consapevolezza e nell'agire che poi loro sono riuscite a diventare le nostre cool kid di questa puntata. E lei questa consapevolezza, la sua anche passione per la cultura pop di cui parlavo prima, l'ha sempre portata anche a livello di carriera, e anche quando poi lei ritornò in Pepsi dopo che l'aveva mollata e dopo aver fatto tutti questi cambi anche a livello di ruoli, lei arriva in Pepsi e dice, facciamo a modo mio, ma perché io mi fido delle mie preparazioni, ha portato gran parte della sua cultura musicale all'interno delle campagne pubblicitarie di Pepsi, portando se stessa, ma perché si era valorata della consapevolezza di se stessa, ha detto, io sono in grado di fare questa cosa qua e la do anche, anche un po' come ha fatto Claudia, non soltanto io in quanto me stessa, ma io in virtù di tanti altri posso dare qualcosa e l'ha dato. E anche lei, giovanissima, quindi anche lei possiamo aspettarci tantissimo ancora. Volevo concludere con una cosa che ha detto lei appena entrata in Uber, ricordo Uber che stava veramente cascando un po' a pezzi, e viene intervistata da una giornalista e dice, non ho paura, non ho mai avuto paura di niente, vedo potenziale e opportunità. Non sono ingenua e non approvo quello che è accaduto in Uber, ma la rappresentazione conta. Voglio essere la rappresentazione del cambiamento che voglio vedere, voglio che le cose migliorino per le persone di colore e le donne, che sia possibile per loro arrivare al lavoro, svolgerlo al meglio ed essere apprezzate per il proprio operato. Ci saranno momenti difficili e piangerò, perché non mi preoccupa piangere e mostrare le mie emozioni, ma sono speranzosa, guardo al quadro generale. Spero di beccare il tasto giusto. No, l'hai beccato sbagliato! Vabbè, insomma, era quello verde. Cosa volevi fare? L'applausi. Allora il giallo. Il giallo. Applausi per Bozzoma. Le risate, no. Tutto quello per cui le vestono a Cool Kid, lei l'ha fatto e strafatta. Ma anche le risate, perché sono risate di positività, che c'è da guardare al futuro con sorriso, quindi anche le risate. No, bellissimo Viola, davvero. Grazie di aver trovato questo strato. Grande, grande, grande donna. Giustifica tu il tuo kit con James. No, stavo in quadro generale e stavo pensando che in inglese c'è Big Picture. Big Picture. Per tradurlo a tutti. Grazie, grazie che ti fai portavoce. Figurati. Allora, per quanto riguarda Jane Lou, faccio un ingresso radiofonico. Per quanto riguarda Jane Lou, come dicevamo prima, come vi raccontavo prima, è stata sicuramente una ragazza molto molto coraggiosa, tenace, perché in un momento in cui stava andando aveva il posto fisso, molto italiano, però non le piaceva, non si sentiva a suo agio, si sentiva probabilmente un po' sprecata in quello che stava facendo. ha deciso appunto di seguire e di battere la propria strada, andando anche contro potenzialmente la volontà di una famiglia che l'avrebbe preferita immaginare al sicuro in una carriera con delle linee e abbastanza... Lei aveva già realizzato il sogno americano, comunque australiano, dei genitori che arrivavano dalla Cina e volevano vedere la figlia fare carriera. Lei era in Ernest Young, cioè insomma aveva già fatto... E quindi ha deciso appunto di seguire il proprio sogno, la propria visione e poi soprattutto è stata pionieristica nell'approccio a un settore che esisteva, però aveva delle caratteristiche molto diverse, quindi era molto impostato sul brick and mortar, quindi sul negozio fisico, su quelle dinamiche e logiche appunto che conosciamo prima del boom appunto sia di social media che poi anche degli e-commerce. Quindi lei ha visto molto 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 lungo ed è stata in grado anche di andare un po' a creare delle nuove dinamiche, nel senso che immagino tutte le questioni di logistica che siano resi, che siano insomma anche tutta la strategia di marketing, cioè è andata appunto a inventarsi o comunque a percorrere per prima e approcciare per prima certe dinamiche. Quindi sicuramente direi tenace, coraggiosa e pionieristica la nostra Jane Lou. Bellissimo, veramente una game changer e giustamente una cool kid, sicuramente andando un po' a toccare quelli che sono i temi del progetto Donne al Quadrato, il discorso di rischio e rendimento si applica benissimo alla storia di Jane Lou, così come quella dell'inclusione sociale per le fasce più deboli alla vita di Bosoma Saint John, ma in realtà credo che la cosa bella è che tutte e quattro abbiano un po' di tutto in questo, hanno sicuramente sconfitto degli ostacoli, hanno superato delle sfide importanti, anche della resistenza da parte del settore in cui operavano a un cambiamento portato avanti da delle donne per giunta, penso alla finance, penso alla moda magari un po' meno, però in realtà retail tantissimo, penso al mondo Silicon Valley, start-upers, insomma penso di nuovo alla finanza ma anche al marketing di aziende diciamo planetarie come quelle dove ha lavorato Bosoma Saint John, che tra l'altro mi fa piacere sottolineare che è stata diciamo molto apprezzata da uno dei nostri cool kid preferiti, Jimmy Ayovin, perché lei faceva parte del team Apple Music quando Jimmy e Dr. Dre hanno fatto la merger tra Beats by Dre e Apple, quindi diciamo quando c'hai lo stampino di Jimmy Ayovin secondo me vai sereno, è l'unica spunta blu che conta secondo me in America. Tornando a Whitney e Claudia su cui cerco di essere un po' più veloce, il discorso di Whitney secondo me l'abbiamo già toccato molto bene, impegnata perché appunto si è impegnata sia da un punto di vista personale nel creare da subito qualcosa di suo, ma impegnata sempre anche nell'obiettivo che quel qualcosa che creava andava poi a risolvere o a toccare in un secondo momento. Harry citavi giustamente il discorso della sua venture delle borse a soli vent'anni quando andava a finanziare o comunque a sostenere zone colpite da disastri naturali. Pensiamo al motivo per cui lei rompe con Tinder e va oltre, diciamo una che si è sempre presa sulle spalle delle battaglie complicate. Visionaria perché appunto come si sottolineavamo prima quando parlavamo dei dati è andata a individuare un bisogno che probabilmente in tanti non avevano capito, quello delle donne di poter sentirsi sicure di fare il primo passo in un ambiente un po' più safe di quello che invece la controparte Tinder offriva. Lei dice che appunto nel momento in cui il team che aveva messo in piedi stava fondando Bumble gli veniva detto che stava cercando di fare qualcosa di impossibile e invece la sua più grande soddisfazione sono le coppie, le famiglie, le storie d'amore che lei sente ad oggi che sono nate dalla sua applicazione. Quello credo che sia di per sé una bella soddisfazione quando ricevi migliaia di mail, ho conosciuto mia moglie così, grazie di avermi dato la fiducia di aver fatto il primo passo perché lei dice una cosa bellissima, anche qua io mi ero segnato una citazione paro paro che ci tenevo a fare, una donna per stare al comando non deve aspettare che qualcuno apra le porte al posto suo, se le sue braccia funzionano bene deve farlo da sola, solo così avrà rispetto per sé stessa e guadagnerà il rispetto per gli altri. Quindi insomma uno dei tanti consigli che ha dispensato all'interno di questa sua ascesa nel mondo del tech che ha fatto sì che diventasse appunto un po' la regina della Silicon Valley. Dall'altro lato abbiamo invece Claudia che in maniera simile in un ambiente anche lì che porta molta resistenza al genere femminile ma per proprio la cultura, anche qua ci leghiamo al discorso di culture che è molto importante quando si parla di brand e di compagnie, è un po' il dato di fatto che il mondo della finanza sia prettamente o comunque principalmente marcatamente maschile che il mondo degli imprenditori tech sia principalmente marcatamente maschile sono dati di fatto e questo rende ancora più interessante quello che hanno saputo creare. Io l'ho definita Claudia instancabile e lungimirante infatti lungimirante sicuramente perché è partita da lontano con queste idee e ha avuto la pazienza, la forza e la continuità di far sì che permeassero tutto il suo percorso e instancabile perché è una battaglia che secondo me è veramente faticosa da combattere quella in cui si è impegnata e in cui tutti i suoi sforzi e il progetto Donner Quadrato appunto dal 2016 promosso dalla sua Global Thinking Foundation ne è sicuramente un risultato importante. Infatti l'idea della fondazione di donne per donne che è nata nel 2016 è un qualcosa su cui lei punta molto per andare a colmare questo gender gap e qua ci ricolleghiamo ai temi del progetto. Infatti quello che più sicuramente si lega agli sforzi di Claudia è quello di cercare di combattere questa violenza di genere all'interno del mondo finanziario e di andare a colmare un gender gap con un'associazione che sia pensata fortemente alle donne dalle donne. ecco io credo che sia molto importante sottolineare questi aspetti ma che gli insegnamenti più interessanti li troviamo appunto nella biografia di ciascuna di queste donne nel senso che poi noi possiamo provare come facciamo sempre a dare dei motivi per cui secondo noi sono dei cool kids ma io credo che leggendo spero anche ascoltando la loro storia durante questa puntata sia emerso il perché ci hanno colpito così tanto e come dicevate all'inizio perché possano essere un'ispirazione contemporanea a quello che tutte le donne vivono e che vivranno negli anni a venire direi che meraviglioso abbiamo un giochino finale per chiudere la puntata per dato che comunque siamo ci siamo impegnati io sono un po' la sentivamo perché poi meno male che c'è viola qua perché comunque è un campo minato questo 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 topic volevamo provare a prendere in prestito il concetto di donne al quadrato per nominare una due donne al quadrato della nostra vita viola è così vabbè donne della mia vita non sto neanche a dirle ci sono due donne che mi hanno sempre super stupito a livello di carriera e personalità ovviamente una serena williams perché la guardavo ripetutamente con mio papà appassionato di tennis e ho guardato anche la sua ultima partita piangendo come una pazza non sto neanche a dire perché è cool kid ma la sua determinazione ogni cosa che fa lei per me è la idolatro in qualsiasi cosa e poi franca sozzani franca sozzani la cito semplicemente perché ho guardato su documentario recentemente è stata una pioniera anche a livello lavorativo nella moda di voglia italia lavorato tantissimo con voglia italia contemporaneamente a voglia america gestito da anna winter quindi non la prima delle sceme ok mancata poco tempo fa ma grande donna a livello lavorativo e grande aspirazione di carriera anche per me invece ha dato anche due due appunti per le prossime puntate di serena franca io mi piace cuore di nonna e mia nonna felicità che era molto molto fan di questo insomma non c'era ancora la radio forse però chiaramente era molto aggiornata su su quello che combinavo e e lei diciamo pugliese e e poi per amore si è trasferita a napoli ed era appunto la socia di mio nonno che era un pubblicitario e però sempre con un'attitudine molto molto moderna era una e anche un po visionaria era una vegana negli anni 80 e vegana negli anni 80 e poi maestra yogi sempre in quel periodo e poi non ha mai più smesso di fare yoga fino a 83 84 anni non so poi più quando è mancata e e poi soprattutto anche un po cioè molto imprenditrice nel senso che era venuta a fare a milano in tempi appunto negli anni 80 anni 70 80 dei corsi di aggiornamento di marketing alla bocconi e quindi supportava mio nonno in in questa non soci sostanzialmente in questa prima agenzia di pubblicità che si chiamava octa che è stata la prima appunto agenzia di pubblicità sotto roma quindi nel mezzogiorno e non c'era praticamente non c'era non esisteva e quindi nonna felicità per me donna al quadrato meravigliosa bellissimo questo questi due appunti familiari io sicuramente ho delle donne al quadrato nella mia vita di tutti i giorni penso a benedetta la mia ragazza penso a sandiana mia madre penso a nonna anna che un po come per te la tua è stata un'ispirazione quella che però diciamo più nota voglio celebrare per chiudere la puntata è quella che ha scritto la mia infanzia perché jk rowling so che hai avuto dei problemi so che sei al mezzo anche a delle tempeste mediatiche non proprio felici quelle sono cose che sono successe più recentemente nella gioventù tu ci hai regalato un mondo in cui noi abbiamo imparato a vivere crescere sognare anche perché io la lettera di Hogwarts la sto ancora aspettando la sto ancora aspettando brava io alla fine ho la terza media io difesa contro le arti scure cioè allora e io dico sempre che è la versione femminile di di tolkien perché sono per me le uniche due persone forse tolte tolto il insomma dante alighieri che sono stati capaci di creare codificare un universo parallelo a quello in cui viviamo con una credibilità e una un realismo assolutamente umano cioè nel senso noi vivevamo le storie degli hobbit con jr tolkien e le percepiamo come umane noi vivevamo le storie di harry potter di ermione dei vari maghetti ed erano le nostre favole no come magari per i nostri genitori prima era stato piccolo principe o qualche o qualche altra qualche altra storia quindi volevo fare shout out a jr jk scusa e con questo chiudere le mie donne al quadrato ottimo ringraziamo tutti gli ascoltatori molto ho iniziato radiofonico finisco televisivo tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando su spotify e su youtube ringraziamo tantissimo biper banca per l'opportunità esatto che per farci studiare insomma e ricordiamo il progetto donne al quadrato in collaborazione con global thinking foundation ovviamente aperto a tutte le donne quindi che tu viola se vuoi assolutamente un pensierino volentieri buona serata buona serata